Ciao a tutti ragazzi e ragazzi e benvenuti nel mio canale, i libri di Clò. Per chi non lo sapesse, in questo canale pubblico recensioni di libri per tutti. Ora direi di cominciare. Oggi vi parlo di questo libro che si intitola Il diario del giorno dopo. Il futuro fa paura se lo conosci. Scritto da Paola Barbato con le illustrazioni di Lucrezia Bouganè. Pubblicato dal Battella Vapore. Questo libro racconta una ragazza che si chiama Sadie Metters, che si sente sola, invisibile e scrive in un diario i suoi sentimenti. Però un giorno in questo diario la protagonista trova una paginetta non scritta da lei perché non si ricorda di averla scritta. e di aver fatto quell'azione. Questa cosa succede tutti i giorni e i fatti che sono scritti succedono il giorno dopo. Per questo motivo Sadie diventa popolare e prende buoni voti, ma poi il diario comincia a scrivere fatti cattivi e Sadie comincia a compiere queste azioni cattive. Ma meno male i suoi amici la aiuteranno. Questo libro è molto carino e mi è piaciuto molto. Leggerlo ve lo consiglio tantissimo. Ora la recensione è finita. Ci vediamo alla prossima recensione. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace e iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdervi nessun video. Un saluto e alla prossima!